Si è chiusa un'importante fase di questa stagione della Dioptical Virtus Basket Molfetta ma non c'è tanto tempo per poter riflettere perché se ne apre immediatamente un'altra. Possiamo però tracciare un bilancio sicuramente positivo. Questa squadra ha chiuso dall'inizio alla fine del campionato in testa alla classifica. Siamo in compagnia di Marco De Pinto. Sì, buonasera a tutti. Sì, il bilancio è assolutamente positivo. Premettiamo che noi abbiamo iniziato questo campionato non con l'obiettivo di vincerlo ma di fare un discreto campionato con una squadra costruita su quelle che erano le nostre disponibilità e penso che uno dei meriti, l'ho detto più volte e continuerò a ripeterlo, di questa società è avere un grande direttore sportivo come Eurolot e un presidente che oggettivamente di basket ne capiscono. Hanno allestito un roster che ci ha sorpreso, ci ha sorpreso per tutto il girone d'andata. Forse qualcuno di noi si era anche, come dire, illuso un pochino che poi fosse tutto così semplice ma in realtà non lo era. Il girone d'andata già ci aveva dato il primo obiettivo raggiunto che era quello della salvezza, quindi della permanenza nel campionato in buona sostanza. Questo ennesimo step dimostra comunque una crescita a livello proprio societario della quale siamo tutti molto orgogliosi. Da adesso in poi inizia la fase, quella clou del campionato, quella un po' più dura, un po' più importante e soprattutto decisiva per cui prenderemo tutto quello che verrà di buono come esperienza e un pizzico di sogno, quello non guasta mai, ma cerchiamo di rimanere con i piedi per terra. Abbiamo avuto anche un periodo un po' complicato nelle ultime due settimane dovuto un po' agli infortuni e a un po' di situazioni che non ci hanno permesso di esprimerci al meglio. Mettiamo in conto anche il fatto che le altre squadre ci hanno iniziato a conoscere e hanno capito come neutralizzarci un pochino. Però la vittoria di stasera, della quale prima di tutto faccio i complimenti a Corato, ottima squadra, grandissima partita e complimenti anche al pubblico che numerosissimo ha accolto i nostri ragazzi e li ha spinti alla vittoria finale. Però la vittoria di stasera segna la degna conclusione di questo girone di andata. Adesso testa i play-in un paio di settimane per recuperare e cercare nuove strategie per affrontare squadre che in questo momento per noi sono incognite. Però c'è tanta soddisfazione, davvero. Io credo che in un anno e mezzo abbiamo riportato la Virtus lì dove merita, a livello di pubblico, a livello di gioco, a livello di classifica. Insomma, siamo molto soddisfatti. Provarci e sognare sicuramente è lecito, anche perché ormai questa squadra, questa società ha una mentalità vincente. Provarci sicuramente, provarci sicuramente. Non a caso ci sono state delle operazioni fatte nelle ultime due o tre settimane con l'innesto di Gloria, con l'arrivo adesso di Azzollini che è una figura importante del basket molfettese che abbiamo fortemente voluto far rientrare nella famiglia a darci una mano, senza che ne avessimo poi l'effettiva necessità. Però la conoscenza tecnica di una persona esperta come Azzollini sicuramente può darci una mano, quindi con molto piacere lo abbiamo inserito all'interno dello staff tecnico e siamo veramente molto soddisfatti di tutte le scelte che abbiamo fatto fino ad oggi. Poi sì, sogneremo, senza ombra di dubbio sogneremo, io lo sogno ad ogni partita. Però rimaniamo con i piedi per terra, abbiamo fatto tanto e possiamo fare ancora qualcosina, non possiamo ancora dire la nostra. Intanto partiamo da primi in classifica e questo è un punto importante. Basterebbe poco, basterebbe vincere le quattro partite in casa e magari una o due trasferte per rientrare tra le prime due e sognare poi i play-off in casa che erano poi l'obiettivo, ambito per questa stagione.